L'Interamnia World Cup entra nel vivo anche per quanto riguarda la parte sportiva. Dopo la grande parata inaugurale di domenica, i 2000 atleti, provvenienti da tutto il mondo, sono impegnati nel club della manifestazione. Tante le partite in programma su tutto il territorio comunale, ma oltre alla parte sportiva, proseguono le tante iniziative collaterali, in particolare sotto il segno dell'inclusione, che rappresenta il filo conduttore del cinquantennale della Coppa. Dopo giochi senza barriere, la gara di calcio a 5 e Crazy for Football, ieri sera in Piazza Martire è andata in scena la giornata mondiale del rifugiato. Durante la serata si è parlato del SAI, il sistema di accoglienza e integrazione. Il progetto SAI è sostanzialmente un progetto di accoglienza a migranti, soprattutto dedicato ai rifugiati, titolari di protezione internazionale e protezione riconosciuta dall'ordinamento italiano. Quindi è un sistema di accoglienza rivolto a questa categoria di utenza e noi quello che ci occupiamo di fare è di garantire tutta una serie di servizi che servono alla persona per integrarsi e conoscere come accedere ai servizi del territorio. Perché poi, passata questa fase di accoglienza, ci sarà la vita in autonomia e quindi è fondamentale conoscere questi percorsi. L'evento, promosso dalla cooperativa sociale Medi Ospes Onlus e dal Comune, ha voluto sensibilizzare il pubblico sul tema dei migranti affinché siano visti come risorsa della collettività. Cioè, quello che noi riusciamo ad offrire è che i beneficiari riescono a compiere un percorso di integrazione estremamente complesso, però riescono a svolgere in una maniera anche veramente più impegnata possibile. Il problema poi arriva quando è la nostra società che deve rispondere perché noi ci troviamo di fronte a situazioni di beneficiari che hanno anche contratti a tempo indeterminato. Una buona conoscenza della lingua italiana, ma poi non riescono a trovare una casa per affittare perché c'è un grandissimo pregiudizio nei confronti dello straniero. E quindi lì è un po' il fallimento di tutto il percorso, del percorso a parte di accoglienza, ma proprio di vita della persona che di nuovo è costretta a migrare.